Molte persone mi hanno chiesto come faccio a lasciare un narcisista Allora, è la stessa cosa che quando devi lasciare un ragazzo, solo che è peggio Nel senso Ragazzi, voi, con questa cosa del narcisista, vi sta sfuggendo di mano Ora, perché vi sta sfuggendo di mano? Voglio un attimo posizionarmi in un modo un po' più soft con voi Vedete un po' questa maglietta macchiata, la ghiazza, eccetera Allora, il narcisista, per lasciarlo Non è che tu devi fare i draghi o ti devi impegnare in qualsivoglia modo o in chissà quale modo Devi semplicemente concentrarti sulla comprensione più logica possibile di qual è il problema Ovviamente che ti porta a pensare di volerlo lasciare Ora, perché dico logica? Perché chiaramente utilizzare una comprensione invece emotiva Ti porterà al devasto Cioè, nel senso, la comprensione logica è quel tipo di comprensione Che ti consente, piano piano, con il tempo, di dire e razionalizzare Tutti quelli che sono i motivi per cui dovresti lasciare una persona Ok? E come la devi lasciare? Come si lasciano tutte le persone? Ovviamente qua il problema di fondo però non è tanto qual è il modo giusto Ma qual è il modo più funzionale per te Cioè, nel senso, lasciare un narcisista Può tradursi ovviamente in un dolore continuo Comunque una sensazione di dolore continua A mio avviso dovresti lasciarlo come lasceresti tutti gli altri ragazzi Come lasceresti qualsiasi altro ragazzo Senza soffrire Il problema è il dopo Quindi saper cooperare a livello logico con il dopo Il dopo è ovviamente lui che inizi a tartassarti O che magari ti vuole riprendere Ti vuole mettere sotto controllo O che addirittura fa vessazione e ti fa star male Un narcisista che ti fa star male È un narcisista scontato Insomma, è un ragazzo che ti fa star male Perché l'hai lasciato Ti farà star male e ti dirà che magari tu non sei stata in grado di fornirgli alcune cose alla relazione Ti farà sentire in colpa Ti dirà che è colpa tua perché si sono verificate delle cose E ovviamente essendo colpa tua per il verificarsi alcune cose Significa che tu sei una buona a nulla Ora, è vero o non è vero questa cosa? Ovviamente non è vera Cioè, no, che non è vera Perché non puoi dare adito Non puoi dire a un uomo che Non puoi pensare che un narcisista abbia ragione sul giudicarti E lì, tra virgolette, si va a creare un problema di autostima Cioè, nel senso, quanto sei in grado tu di mantenere la tua autostima Di essere stabile, di essere ligia Perché con il passare del tempo Soffrirai Ok? Quindi sentirai ovviamente una sofferenza Perché questa persona cercherà di punzecchiare E girare il coltello Rovellarti un po' Girare Dove ti fa male? Dove senti dolore? Dove senti enfasi? Dove senti appunto fastidio? E quello quando trova un punto, ovviamente, per girare bene Fa girare senza problemi Ed è là che si fa, tra virgolette, si vede quanto sei forte, quanto sei strong Per mantenerti a livello di autostima Perché se tu ovviamente mi crolli a livello di autostima A livello di sicurezza di sé Puoi lasciarlo Non è facile Ma è difficile Si traduce in un'odissea infinita Si traduce in una difficoltà continua Dunque, cerca di ragionare Su quali sono i motivi logici Ok? Cioè, non quegli emotivi Senti Ah, perché mi fa star male Sì, sì, vabbè, ok Ti fa star male Però ci sono dei motivi logici Ci sono delle cose logiche Che ti spingono E ti devono spicciare a voler troncare la relazione con questo cristiano Con questo narcisista Ora Fatti per esempio una lista di quali sono Tutti i problemi che stai riscontrando nella relazione Buttiamola così Facciamo una lista di tutte quelle che sono i difetti Più grossi Che stai riscontrando nella relazione Cerca di arrivare per esempio a 40 Anche 50 difetti Prenditi del tempo una settimana E in questa settimana fai una lista di 50 barra 40 difetti 40 problemi che stai affrontando nella relazione Qualsiasi tipo Lui, il problema è Due punti E sotto inizi Uno, lui mi offende Due, lui mi tartassa Tre, non mi sento amata Quattro, mi manipola Cinque, mi accusa di aver fatto X Sei, mi accusa di aver fatto Y Vai, vai, continua così Continua a farti questo listone Ora Quando gli sei fatto questo listone Questa mega lista Di 50 40 dinamiche fastidiose brutte Seleziona tra questa lista Di 40 dinamiche appunto di fastidio All'interno della coppia Tra le tre Massimo quattro Dinamiche Tossiche Che stai vivendo Quindi queste saranno le più importanti Le principali Che ti dovranno ricordare No? Il perché dovresti lasciare Ok? Perché dovresti troncare il rapporto con questa persona Se ti ricordi queste dinamiche Ovviamente quindi Te le segni Quindi non lasciare il fogliaccio Il bagliaccio buttato in giro Segnatele su una parte Mettete lo sfondo del telefono Magari devo mettere lo sfondo del telefono Insomma Sarebbe carino Sarebbe una cosa interessante Io mi sfondico le cose che mi ricordano Il telefono E te lo posizioni in quel modo Ora una volta te l'hai posizionato in quel modo Che succede? Te lo vai a vedere E dici ok Fantastico Questi sono i tre motivi principali Per cui ho lasciato questa persona Quando scegli di troncare il rapporto Quando scegli di lasciarlo Sarà proprio in quel preciso istante Che tu ti ricorderai Ti vuoi ricordare Tutte le mattine Di perché stai lasciando questa persona Perché hai deciso di lasciarla E non Ah l'ho lasciata così tanto Perché adesso sto meglio No 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 Ti devi ricordare Mi faceva questo Questo e questo Così che quando magari Si presenta la possibilità Di tornare insieme Di rifare il rapporto Di stare insieme Cose di questo stile Tu te lo vai a vedere Vai a guardare qua sopra Che c'è scritto E potrai dire Ah cavolo Questo è ovviamente Il motivo per cui io Ho scelto di lasciare Ho scelto di troncare Hai scelto di troncare Perché? Perché qua c'è scritto Che io avevo X, Y e Z come problema Tre problemi Parla quattro problemi principali Perché solo in questo modo Potrai davvero Riprendere in mano la situazione E dire ok basta Questo è il problema Questa è la situazione Ed è il motivo per cui Ho deciso di troncare Altrimenti ti ritroverai In un contesto Dove ti dimentichi Perché l'hai lasciato Ti dimentichi Del perché hai scelto Di rompere la relazione E continuerai a soffrire Imperterrita Cioè la tua sofferenza Non arriverà mai A una fine Sarà un continuum Di sofferenze continue Sensazioni di devasto Sensazioni di dolore E non riuscirai A concludere nulla Concluderai soltanto Che questa persona La rivolrai All'interno della tua vita Dunque Per lasciare davvero Il narcisista E non soffrire Bisogna ricordarsi Perché si sta troncando Il rapporto Bisogna ricordarsi E sottolineare Perché si è scelto Di rompere la relazione Perché si è scelto Di allontanarsi Questo è l'unico modo Per lasciare Un narcisista Senza soffrire Nel momento in cui Tu lo lasci E stai soffrendo Sappi che è un processo Normale Sappi che la solitudine È giusto accettarla Non è sbagliato Sentirsi soli Non è sbagliato Star male Non è sbagliato Sentirsi in difetto Ma è giusto Perché la società Di oggi Ci insegna E ci continua A dire Che dovremmo Stare sempre bene È una stronzata Va bene Va bene star male Ci saranno dei giorni In cui stai di merda E giorni in cui sei felice È giusto È ok Va benissimo Serve qualcuno Che ti ricordi Che è ok Perché il contesto sociale All'interno in quale vivi Non ti ricorda Che va bene Ti dice No Guarda che hai sbagliato Star male Vatta a prendere la pillola Vatta a prendere questo Vatta a prendere quello No Comincia a meditare Sul fatto che è giusto Intanto star male Sentirsi male Comincia a meditare Sul fatto che è ok Sentirsi di merda Che è ok Soffrire Quando si lascia Con un narcisista Che è ok Soffrire quando è finita Una relazione Perché se no Qua ci prendiamo tutti In giro E creiamo un circolo Vizioso Dove si pensa Che in qualche modo Sia giusto Dover star sempre a mille No È giusto anche stare A zero Perché ci saranno Dei giorni di down E dei giorni di up Dei giorni di sotto Dei giorni di sopra E non ci puoi fare niente Questo è il ciclo della vita Benvenuto nella vita Seguimi qui sui altri social Se puoi davvero Conquistare Ok Ci sentiamo